Il cattore di Rocket League è un genere del marketing, esatto, secondo me è andato proprio così. Sembrano quelle idee che hai tipo da fatto, oppure a notte fonda, quando ridi per qualsiasi cazzata, fa Oh ma ti immagini se fa un giochino? Oh no, ho un'idea per un gioco. Allora no, c'è la gente, gli garba il calcio, gli garba le macchine, calcio con le macchine, boh, così no?